Allora vi faccio vedere un piccolo videoclip di quello che si fa nella casa di Gesù Adolescente di via Evangelista di Blasi, la casa che è diretta da Don Arnaldo Riggi. E queste sono le attività estive rivolte ai bambini del quartiere, ci saranno oggi centinaia di bambini qua divisi in gruppi, come potete vedere, nei vari spazi, nei vari campetti di calcio, ecco vedete, poi qua c'è un altro palco dove sarà fatto lo spettacolo dopo che avranno finito di fare le attività sportive, ci sono pure le famiglie, come potete vedere, che aspettano i figli che fanno queste attività sportive e giocano. anche qua ci sono altri due gruppi che fanno tutti i giochi insomma, e oltre a questa attività poi ci sono anche le gite, insomma ci sono tutto il periodo estivo, dopo centinaia di bambini che frequentano la casa di Gesù adolescente, anche questi sono gli orti due campi, lì in fondo c'è il teatro, quello rosa più o meno con la colore dove si svolgono altre attività, molte delle quali coinvolgono sono ovviamente anche di bambini, ragazzi, adolescenti, siamo del quartiere, e lo spazio lì, questo lungo è invece l'oratore dove ci sono gli spazi pure dedicati ai bambini, dove ci sono il ping pong, tanti giochi, il calcio balilla, adesso facciamo una piccola visita anche al palazzetto dello sport, abbiamo utilizzato diverse squadre che si allenano qui, soprattutto l'inverno chiaramente quando il tempo è brutto e quindi hanno uno spazio al chiuso dove poterci allenare, questo qui è il palco dove tra un po' ci terrà lo spettacolo, l'apetto, e questo qui invece c'è il bar, il palazzetto dello sport, e questo invece il palazzetto dello sport, dove si fanno tantissime attività, palla a canestro, palla a mano, i guandò mi pare che c'è pure, insomma tantissimi sport con diversi allenatori e tanti ragazzi, qui ci sono tra i 5 a 600 iscritti, tutti diciamo bambini e ragazzi. e vabbè questo è qua, finiamo con quello che ho utilizzato dei bambini, lasciamo gli zanetti qui, e finiamo la scena qui al palazzetto, ciao ciao e grazie a tutti. attenzione iscritti ai quattro tre due da cin v qualcuno pensava che oggi fosse sparito ma sono qua, ci sono sempre, a Allora, ah, ci siete, meno male, va, meno male che ci siete, allora intanto 500 punti alla squadra dei Totali, però, però, ancora, non l'avevo visto, perché vorrei sentire se qualcuno ha imparato l'inno di Boccolarino, perché stavolta do mille punti. Allora, ah, ci siete, oh, Issa, Totali, oh, Issa, Vilcus, oh, Issa, Urra, Epicin, oh, Issa, Circus, oh, Issa, Totali, oh, Issa, Circus, oh, Issa, Aquile, oh, Issa, il resto del milione, oh, Issa, Musica, maestro, Urga, Dominic. Al prossimo episodio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cinque, quattro, tre, due, mille punti alla squadra dei Virtus!